Posizione il dito sul tuo triangolo preferito. Ho fatto anche la rima. Adesso da dove sei, spostati sul triangolo verde più vicino. Ok, da dove sei, spostati sul triangolo rosso più vicino. Mi raccomando, assicurati che sia il più vicino rispetto a te. Per finire, spostati sul triangolo arancione più vicino. Io penso che la tua scelta ricada su questo triangolo. Se ho indovinato, iscriviti su YouTube.